La Campania è la prima regione del mezzogiorno per presenza di immigrati regolari ed irregolari e quanto emerge dall'annuale rapporto immigrazione della Commissione Migrantes della Caritas, ma a colpire la situazione è vissuta da quanti si sono ritrovati in una condizione di irregolarità a causa dei cosiddetti decreti sicurezza che per il vescovo di Teggiano Policastro, Monsignor De Luca, delegato regionale Migrantes della Campania, rischia di creare un'emergenza sociale, una irregolarità che può alimentare le mafie. Quello che soprattutto deve farci riflettere è che dopo i decreti sicurezza la Campania ospita circa 10.000 immigrati cosiddetti irregolari, quelli che hanno perso il permesso umanitario in nome di una sicurezza che in realtà ha determinato una grande emergenza sociale. Il rischio qual è che con questi decreti si possano consegnare questi stranieri che diventano irregolari alla criminalità? Diciamo che la riflessione sull'irregolarità è molto complessa, ampia, andrebbe fatta soprattutto sull'Europa perché l'Europa ha determinato le mafie delle tratte umane proprio chiudendo le frontiere. Un'Europa che senza una logica, una prospettiva sulle politiche migratorie sta alimentando l'irregolarità, le mafie che addirittura sono diventate più vantaggiose rispetto all'impegno, al commercio di stupefacenti. Ecco perché una riflessione l'Europa la deve fare sulla regolarizzazione delle immigrazioni che deve essere ordinata, controllata e selezionata. Finché non ci apriremo a questa logica di immigrazione regolare, noi saremo sempre sommersi dalla minaccia di un illegale che cresce. Preoccupazione anche da parte dell'Arcivescovo di Salerno Bellandi sullo sfruttamento al quale sono costretti tanti migranti. La situazione più problematica rischia di essere quella di un'accoglienza sì, ma che poi diventa anche un po' sfruttamento, per cui esistono delle sacche di territorio in cui queste persone che vengono da lontano vengono usate, usiamo proprio questo termine, per interessi personali, stipendi da fame. Quindi questo è un aspetto su cui la società e soprattutto la politica dovrebbe molto interessarsi.